Buonasera amiche e buonasera amici bianconeri, bentrovati qui sul canale, è appena terminata Monza Juventus e allora qui come di consueto per il commento post gara, il titolo del contenuto mai come questa sera può essere veramente quello che è il motto bianconero, fino alla fine. Prima di sviluppare il tutto mi raccomando iscrivetevi al canale YouTube, azionate la catena notifica e mettete un bel pollicione verso l'alto per questa vittoria bianconera che tiene la Juve nella zona alta della classifica e per una notte almeno, almeno per due direi giorni visto che oggi è venerdì e Napoli-Inter si giocherà domenica sera, la Juve sicuramente sarà in testa e in testa alla Serie A. È stata una partita non bella, la classica partita che spessissime volte abbiamo visto ultimamente una Juve che trova il vantaggio, se vogliamo anche meritato, con Adriane Rabiot nel primo tempo oserei dire un super Rabiot perché al di là del gol, al di là dell'assist perché il gol di Gatti anche se la Lega non assegnerà molto probabilmente l'assist a Rabiot perché Gatti prima cicca il pallone e poi lo scaraventa in porta, Rabiot ha fatto un qualcosa di strepitoso, veramente di grandioso e quindi grazie a super Rabiot e poi al gol di Gatti proprio sul suono della sirena al 94esimo, al quarto dei 5 minuti di recupero concessi, poi si sono protratti ovviamente di più 8 minuti di recupero complessivi, la Juve sbanca Monza, vince per la prima volta Allegri contro Raffaele Palladino l'unico allenatore tra l'altro in Serie A contro il quale Allegri non aveva mai vinto e per la prima volta la Juve vince in Serie A contro il Monza perché nella scorsa stagione erano stati due successi dei Brianzoli, bestia nera si può proprio dire per la Juventus dicevo non una bella partita perché nonostante la Juve fosse partita bene con un gol tutto sommato meritato a seguito di un calcio di rigore fallito, calcio di rigore nettissimo trovo anche faziose i commenti dell'emittente Dazon sul calcio di rigore perché quando io ascolto a fronte di ciò che si vede, è evidente il calcio di rigore a favore della Juve mettere così quasi in dubbio l'entità della trattenuta, si può fischiare, si può non fischiare insomma trovo sempre altamente sconcertanti determinati digrazioni che probabilmente non vengono fatte nemmeno con malafede o con cattiveria, semplicemente quando si commenta la Juve non c'è più serenità nel commentarla si ha sempre paura di dire ciò che è e quindi si finisce per dire delle sciocchezze si finisce per dire qualcosa che poi suona strano ma non concentriamoci su questo, concentriamoci su quelli che sono invece i tre punti che la Juve alla fine conquista una vittoria come ho detto da veramente fino alla fine, da motto bianconero perché dopo il pareggio di Valentin Carboni, errore clamoroso, un altro di Federico Gatti che legge male la traiettoria, è in ritardo e soprattutto col suo movimento inganna a voi Cescesni palla di un mancino a rientrare a giro che arriva diciamo quasi frontale per la testa di un compagno che non c'è o perlomeno che non può arrivarci ma traiettoria che inganna il portiere perché il proprio compagno di squadra legge male, ha una lettura sbagliata di quella palla e la palla che si insacca sul secondo palo laddove Cesni in ritardo dopo l'errore ad inganno di Federico Gatti appunto non può arrivare fortunatamente la Juve riesce immediatamente a ribaltare la situazione e a trovare con Rabiot quell'azione meravigliosa sulla destra palla in mezzo dopo aver saltato il compagno, sì il compagno, l'avversario di turno palla in mezzo per Gatti che prepotentemente si era rovesciato sul fronte offensivo alla ricerca del gol della vittoria questo dà anche un po' il senso di come la Juve potrebbe interpretare le partite a me ovviamente a caldo mi soviene immediatamente un pensiero un secondo tempo ancora una volta soporifero sul genere di Juventus-Inter con la sola differenza che il Monza che ha avuto il possesso completo della palla e del gioco pur non rendendosi praticamente mai pericoloso fatto salvo qualche traversone bravissimo Cesni nelle letture bravissimo Bremer nel contenimento e nella robustezza della sua prova difensiva una Juve però che non ha mai dato la sensazione di volerla andare a vincere con un punteggio più rotondo fatto salvo nei primi 5 minuti quando con Vlachovic e Chiesa ci aveva provato salvo poi arrendersi fondamentalmente ad un atteggiamento remissivo fatto di compattezza, di organizzazione difensiva ripeto volto a non concedere opportunità al Monza ma certamente non ad offendere per cercare di chiuderla e non rischiare Juve che prende il gol del pareggio si sveglia proprio al minuto 94 e con fondamentalmente l'unica vera grande azione di prepotenza di voglia di dimostrare di voler vincere questa partita riesce a vincerla e allora tutto questo così a caldo fa arrabbiare fa arrabbiare perché dimostra per l'ennesima volta che l'atteggiamento di questa squadra volente o nolente, allegri o non allegri a volte è totalmente sbagliato io comprendo e capisco che una certa organizzazione difensiva una certa compattezza, una certa robustezza danno una dimensione importante ad un gruppo che sta crescendo perché questo gruppo sta crescendo è squadra, ha fame ha voglia di stupire ha voglia di prendersi delle rivincite e questo lo si vede, lo si intravede però dispiace che molto spesso si potrebbe e il gol al 94 di Gatti lo dimostra fare di più e non lo si fa perché si sceglie per piano partita perché non può essere altrimenti di andare in gestione, in controllo purtroppo si sa molto spesso accade che quando nella gestione nel controllo si sbaglia anche soltanto una piccola interpretazione della fase difensiva succede di capitolare e sarebbero stati due punti clamorosi gettati all'ortiche perché non dimentichiamoci che domani sera chiedo scusa domenica sera al Diego Armando Maradona andrà in scena Napoli-Inter e comunque andrà la Juve avrà guadagnato punti su una diretta concorrente per la zona Champions ma io direi anche a questo punto per lo Scudetto magari non tanto per la Juve direte voi e ci può stare perché molti possono ritenere la Juve non competitiva per lo Scudetto ma certamente per la zona Champions il Napoli che che se ne dica resta sempre una candidata per le zone alte della classifica l'Inter è certamente la squadra favorita per lo Scudetto ma questa vittoria mette una grande pressione sulle rivali perché la Juve intanto vince su un campo difficile dove nessuno aveva ancora vinto in Serie A quest'anno vince per la prima volta contro il Monza Allegri batte per la prima volta Raffaele Palladino che non aveva mai battuto da allenatore appunto nelle sfide giocate in Serie A lo aveva battuto in Coppa Italia e quindi è una Juve che si candida decisamente come vera antagonista per lo Scudetto è inutile nascondersi è inutile girarsi tanto intorno non è una Juve bellissima anzi a volte è una Juve che ti fa arrabbiare perché potrebbe essere bella e invece sceglie ripeto di andare in autogestione in controllo questa sera io credo che meriti una menzione positiva Nicolussi Caviglia che al di là dell'assit sul gol di Adrien Rabiot secondo il mio punto di vista ha giocato una partita molto più intraprendente rispetto all'Inter dove io già l'avevo giudicato positivo perché comunque pur giocando semplice non aveva sbagliato granché e considerato che fino alla giornata prima aveva giocato appena 10 minuti in Serie A giocare titolare un big match di quel tenore non era certamente facile questa sera invece scrollatosi di dosso l'emozione e lo scotto dell'esordio vero e proprio dal primo minuto beh io ho visto un Nicolussi Caviglia intraprendente con personalità capace anche di offrire delle sventagliate interessanti e ho visto un Alexandro che molti avevano criticato io stesso avevo storto il naso alla lettura delle formazioni questa sera sicuramente positivo un Alexandro che si è rivelato molto utile bravo nelle letture bravo nelle chiusure nei diagonali un Alexandro che finalmente finalmente fa parlare di sé in positivo Bremer l'ho detto prova granitica male mi dispiace dirlo però male secondo me Dujan Blachowicz che ancora una volta lascia perplessi per l'emotività l'emotività che dimostra a seguito di un errore clamoroso dal dischetto ma soprattutto clamoroso perché nella ribattuta ha concesso a Di Gregorio un'altra ulteriore grande parata fortunatamente da quel calcio d'angolo è nato poi il gol del vantaggio ad opera lo ribadisco per me del migliore in campo Adrian Rabiot un giocatore che sicuramente tanti e troppe volte lo avete lo hanno criticato ma dal mio punto di vista è davvero un centrocampista di carattura internazionale un centrocampista oggi davvero debordante nel centrocampo bianconero la Juve vince fino alla fine perché vince al 94esimo in pieno recupero e lo fa ribaltando una situazione che sembrava quel punto compromessa sarebbero stati due punti gettati alle ortiche sono tre punti fondamentali invece per la lotta a Champions ma chissà forse anche per qualcosa di più intanto per due giorni la Juve sarà in testa alla classifica in attesa di capire Napoli-Inter domenica sera come finirà ditemi la vostra commentate mi raccomando come sempre fino alla fine forza Juve ciao